Il prossimo 15 novembre all'Aquila nel Tecnopolo d'Abruzzo ci sarà un forum sul 5G organizzato da ZTE. Il forum sarà l'occasione per fare il punto sul 5G in Italia e nel mondo. Durante l'evento saranno delineati anche gli orizzonti di sviluppo e le opportunità di crescita e innovazione che il nuovo protocollo offrirà. All'evento parteciperanno i più grandi esperti mondiali della multinazionale cinese, tra cui Xiaoming, Global Sales President, previsto anche l'intervento del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e di Giovanni Lolli, presidente vicario della regione Abruzzo. All'evento sarà presente anche Ucun, presidente ZTE Italia-Europa Occidentale. Durante la giornata la stampa potrà anche sperimentare in diretta alcune delle possibilità offerte dal 5G. L'evento inizierà alle 9 e terminerà alle 15. Saranno presenti anche giornalisti provenienti da fuori regione e dal mondo. A proposito di 5G, all'Aquila però è in corso una protesta da parte dei residenti dei cittadini di Pagliari di Sassa per le antenne di telefonia, che da mobili dovevano servire inizialmente soltanto il progetto Casa del Doposisma, stanno diventando permanenti proprio per la sperimentazione del 5G con la committente che è appunto la ZTE. I residenti sono preoccupati soprattutto per i possibili rischi per la salute e c'è un comitato che ha raccolto oltre le 1500 firme. Dal punto di vista del Comune, l'Avvocato Domenico De Nardis del SUAP ha già ribadito che loro sono in regola con tutte le autorizzazioni, però la protesta dei residenti non si placa, vogliono vederci chiaro. L'argomento sarà oggetto anche di un'apposita commissione territorio convocata per la prossima settimana.